Eccomi in un altro magico punto sempre a Belle Rock Prima non te l'ho detto ma questo è un punto dove l'energia si chiama Up Flow ossia energia maschile di espansione Allora quello che ho sentito sia per me che per te in questo luogo è stato proprio come essere un albero un albero che riceveva nutrimento dalla terra energetico e a un certo punto all'altezza del cuore ho cominciato a sentire una fortissima espansione che poi ha portato anche la parte più alta del corpo quindi tutta la zona delle spalle, la gola e anche la testa ad espandersi proprio come se fosse stata un'apertura della mente e tutta questa espansione mi ha portato ad una fortissima connessione con tutto ciò che c'è, con il mondo intorno a me e con il divino sia il mio che il divino universale e tutto questo è stato molto bello perché comunque è stata una forte percezione di quanto il mio divino quindi anche il tuo divino sia connesso col divino universale che può sembrare una cosa scontata e banale che tu già conosci ma un conto è conoscerla un conto è sperimentarla ed è stato veramente molto bello molto potente e quindi intanto ti saluto e vediamo che cosa ci riserverà ancora la giornata un abbraccio ciao ciao